La prima sessione del convegno che riguardava il tema L'architettura della permanenza e della speranza Progettare nei luoghi dell'emergenza e del bisogno Ci puoi riassumere di che cosa ha parlato? Il nostro studio ormai quasi da 20 anni si occupa di progettare nel sociale Per cui nel mondo della cooperazione, del terzo settore, dell'economia solidale In questi ultimi 10 anni ci siamo in particolare occupati Lavorando con l'NGO Emergency di progetti nel sud del mondo E negli ultimi anni questa esperienza è stata trasportata in Italia purtroppo Per cui ci siamo occupati di strutture sanitarie per i migranti In Calabria, a Marghera, stiamo lavorando in Campania E poi strutture mobili che hanno girato la Sicilia e la Puglia Per cui abbiamo toccato il problema del sud del mondo Nel sud del mondo, nelle zone di guerra E poi le conseguenze che le guerre e la povertà portano a queste persone A cercare una vita migliore in Occidente, in Europa, in Italia Per cui diciamo purtroppo abbiamo fatto una specie di viaggio di andata e ritorno E ci troviamo a vedere gli stessi volti della sofferenza che abbiamo visto in Africa A rivederli qua Da professionista, se potesse dare uno spunto in più Magari anche per quanto riguarda la realtà locale Lampedusana, Siciliana in genere Noi abbiamo maturato un'esperienza lavorando in zone di emergenza Con poche risorse, poco tempo Estremamente pragmatica C'è un problema, bisogna risolverlo Risolverlo bene perché risponde in prima persona E questa è la cosa interessante di lavorare con un NGO che rimane Questa esperienza vale anche in Italia In questo momento di crisi farle cose, farle con sensatezza, con pragmatismo Nel miglior modo possibile, nel minore tempo possibile Per cui di fatto non c'è un messaggio che vale per l'Africa O piuttosto che per l'Afghanistan E che vale per l'Italia L'approccio è sempre lo stesso È un approccio etico, estetico, pragmatico, economico Hanno tutte la stessa radice queste parole praticamente Grazie 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 Grazie